Bene, dopo il mondario abbiamo Ilaria, Ilaria Fosso, buonasera. Buonasera. Ecco, nella parte della mamma. Sì, è una parte abbastanza impegnativa, ma bella, bella. Questa è la prima, quindi diciamo, intanto parliamo che è la prima uscita, quindi diciamo abbastanza bene. Eh sì, sì, siamo soddisfatti abbastanza, perché di solito la prima volta c'è sempre qualche dettaglio che non va, magari l'emozione, gioca brutti scherzi, invece è andata benissimo, siamo soddisfatti. E' andata la grande, questa mamma che combatte con tre figlie, la nonna che non sente bene, insomma, tanti problemi, però. Eh, diciamo che è una commedia, è uno squarcio di vita quotidiana, è sicuramente la situazione che vivono tante persone, è una situazione a volte sembra intollerante, però si supera, per il bene della famiglia si supera tutto. Sì, si supera tutto, quindi abbiamo visto poi c'è anche una parte, ci sono delle parti, insomma, molto toccanti, molto... Eh sì, diciamo che la perdita di un marito, quello che dovrebbe essere anche il pilastro della famiglia, soprattutto per la donna, quando si decide di costruire una famiglia, e il fatto che venga a mancare magari può creare gli squilibri, però in fondo l'amore rimane per sempre. Boh, sono una romanticona. Comunque, vabbè, da tenere a bada c'è una famiglia da sola, una mamma, insomma, questa poi è la realtà anche nella vita di oggi. Beh, sicuramente non è facile, però insieme si supera tutto, e quando i figli aiutano, collaborano in casa, e la madre comunque è una persona che sa tenere al suo posto ed educare bene i figli, anche se manca un'altra parte, beh, a quel punto si può andare avanti comunque. Comunque, il senso della commedia un po' era, a parte la parte comica, diciamo anche questo. Sì, c'era una morale, questa morale abbastanza bella, perché alla fine, beh, crediamo sempre che ci sia qualcuno a proteggerci, e in questo caso c'era questo padre che teneva insieme tutti e dava questo amore smisurato. Allora, Ilario Fosso nella parte della mamma, per tutte ma non per mia, quindi adesso ci sarà l'altra commedia, sabato mi pare. Sì, Casa Cavallo. Casa Cavallo, lì, vedremo Ilaria pure in quella... No, basta, do spazio agli altri, io in questo caso collaborerò. Io ti faccio i complimenti, comunque, veramente, brava veramente, bravi tutti. Grazie, grazie mille. Grazie, ciao.